La sensazione è che ci sia da parte di tutti la consapevolezza che il consumo del suolo zero è ormai un sentimento comune dei veneti e di tutti quelli che hanno partecipato a queste audizioni. Il testo chiave è quello presentato dal presidente Zaia, il PDL 14, ai quali sono aggiunti il PDL presentato dal consigliere Pigozzi e quello dal consigliere Zorzato. L'intendimento è naturalmente di arrivare a un testo condiviso, tra l'altro sono arrivate delle osservazioni in particolar modo da Urban Meta che possono secondo me essere una traccia importante per trovare da subito una condivisione sul testo e arrivare presto in aula. Questa deve essere percepita come una legge che non blocca ma che crea nuove opportunità, cioè da una parte la consapevolezza che nel corso degli ultimi anni troppo suolo si è consumato nel Veneto, dall'altra la necessità e anche in questo caso la consapevolezza che i centri storici possono diventare una grandissima opportunità di rigenerazione e di riqualificazione architettonica e energetica. Adesso abbiamo un materiale concreto sul quale confrontarci, ci auguriamo che dalla prossima settimana quando comincieremo il confronto sugli articoli si parta appunto da una base perlomeno di principio condivisa, mi pare che questo ci sia già. Poi sugli aspetti operativi ci sono delle differenze che vanno verificate fino in fondo. Abbiamo materiale di ricostruzione e rigenerazione dell'edificato per poter da subito già cominciare e continuare gli interventi in essere. C'è bisogno comunque di un cambio di passo per quello che riguarda il nuovo modello per il Veneto di sviluppo anche dei tessuti urbani. L'Europa ci insegna che le città sono il motore del futuro ma vanno ripensate e rimodulate con criteri nuovi.